il primo video si era rotto non mi ricordo neanche il perché e ho provato a farlo ben due volte ma poi pensandoci bene e mi sono andato a prendere quel bene che vi dicevo dove ho notato cose che vi piaceranno e quindi partiamo subito ho scelto alcuni beni dei vostri immi che mi sono subito saltati all'attenzione kioi art kioi ciao rettile 30 rettile anch'io desidero un grande bene ciao manuel io i ciao manuel a parentesi credo che molti dopo ieri si saranno disiscritti se così non è perché questo appunto l'ho presi qualche giorno fa e se siete ancora qui vi fa piacere soccorarvi dalla sclev poi mezzo con po col chio e al bolino le due è è un saluto alle tresse di milano gregorio indelicato io commento sempre scritto maiuscolo sempre giorgio armani al bene o piccolo poi io ciao bac bac dicul ciao bac di bac poi semplicemente l'interfunzione un punto un punto ve lo faccio vedere un punto un punto colori quindi saluto te te amico da facebook ma anch'io del cane lo possiamo far vedere un po eccolo lì ciao enrico cavarrico e ciao agli amici del mio vicinato che li sto vedendo alle prese prima con un cavallo bianco questa mattina con un meraviglioso cavallo nero prima con un cavallo nero questa mattina con un cavallo bianco nero dalla folta crimiera ciao poi anto animations anto animations ciao l grande v grande c grande m t b piccole poi ancora non l'avevo fatto ma perché l'avevo fatto un caro saluto a francese